Tutti gli italiani ritornano in Tunisia perché i primi turisti, per noi gli italiani non sono turisti, sono da noi, sono troppo vicini, non soltanto sono vicini a un'ora di aereo, però erano i primi turisti in Tunisia. Perché adesso non vengono? Non vengono, hanno paura, ma hai visto che non c'è niente, c'è le mostre ma non c'è né polizia che fanno come hai visto alla tv, quello che vediamo alla tv non è giusto. E' tutto tranquillo adesso? Adesso hai visto che è tutto tranquillo, sei anche venuto alla nostra sede, tutti i tunisini, camminiamo come la gente di tutto il mondo, davvero ci sono dei mostri di tutto il mondo, di qualche parte, però di tutta la Tunisia non c'è niente. Ieri l'altro siamo andati in giro, abbiamo visitato il nord della Tunisia per aiutare qualche gente oppure vedere i nostri luoghi che sono tranquilli, non c'è veramente niente. Le piagge sono bellissime e pieni di turisti, ieri sono andati a Hammamet per vedere, perché la nostra sede, la nostra successione, andiamo ogni tanto a fare le mostre nelle parti della Tunisia, ci sono turisti tedeschi.